Ecco il recupero, oggi mercoledì, il recupero tra la Virtus Castelfentano e Virtus Rocca San Giovanni, valevole per il campionato di seconda categoria, girone C. Agli ordini dell'arbitro Colanzi, dalla sezione AIA di Lanciano, i giocatori si accingono a fare il loro ingresso in campo. Ecco, ecco l'ingresso in campo, i nostri ragazzi giocheranno con la seconda maglia rosa-nero, tutti schierati, l'uomo, lo metto, lo metto, quindi a voi il nostro. Ecco, ci salutano i calciatori e il direttore di gara. Ecco, ci salutano i calciatori e il direttore di gara. L'arbitro va a controllare la rete. Grazie. 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 Grazie a tutti!